Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha convocato per domani una riunione dei governatori delle regioni del Mezzogiorno su Recovery Fund. Una riunione programmata in modalità online a partire dalle ore 17. Urgente e necessaria, si legge nella lettera d'invito, un'iniziativa forte delle regioni meridionali che devono ritrovare una comunità di visione e di azione al di là delle rispettive collocazioni di schieramento politico. Se non avvertissimo con forza questa responsabilità comune, non svolgeremo il ruolo che le nostre comunità si attendono da noi tutti. Per il Governatore della Campania è circolato un piano del Governo che capovolge i criteri europei e ripropone la banale distribuzione delle risorse fra centro, nord e sud, secondo un criterio esclusivamente democrafico, cioè il contrario dei principi di coesione sociale e territoriale sanciti nel Trattato di funzionamento dell'Unione nella nostra Costituzione. Si prepara un vero e proprio furto in danno del sud e delle sue regioni. Rispetto al piano di ripresa e resilienza, il Governatore Campano quantifica il furto in ben 20,92 miliardi di euro. Peraltro aggiunge anche la ripartizione delle risorse nelle sei missioni proposte dal Governo, che è davvero sconcertante. Basti pensare alla mortificazione di settori importanti, in particolare per il sud, come la sanità, il turismo ed i servizi idrici.